Dopo la partita di Arezzo, persa l'esordio dallo Puscu Detto, la Gianna Erminio affronta il Pineto, sfida particolare perché si rigiocherà domenica 28 maggio nella finale di Coppa Italia. Partono meglio gli abruzzesi con questo tiro di Injamber e spinto da Daniello con Emili che non riesce nel tapin. Tre angoli conquistati dagli ospiti nei primi 5 minuti, ma appena la Gianna mette fuori la testa passa. Bella verticalizzazione a liberare Fumagalli che si invola verso la porta trovando il diagonale vincente che sblocca la partita ed esulta a suo modo dopo il quindicesimo gol stagionale. Gianna avanti e in campo con gli attaccanti titolari. Chiappella però trema su un'entrata dura riservata a Fall da parte di un difensore del Pineto. Fall sarà poi costretto a uscire durante il primo tempo. Dall'altra parte invece è sempre Injambe a fare il diavolo a quattro sfruttando anche qualche indecisione della difesa che però si salva sempre anche per la pronta uscita di Daniello come in questo caso Perna da leader prova a far respirare un po' i suoi compagni, prima con un tiro da fuori area che però finisce ampiamente a lato, poi con un'azione caparbia che costringe un avversario a prendersi un cartellino giallo dopo averlo ripetutamente tirato giù. Il Pineto però in attacco crea scompiglio, Njambe è fumantino visto il liscio su un bel cross dalla destra e il numero 11 era solo in area, ma alla lunga il gol arriva. Da rimessa laterale il pallone arriva sul lato opposto dell'area di rigore e della quercia fa partire un destro secco che beffa tutti e vale la parità. 1-1 al minuto 34 è Pineto che sulle ali dell'entusiasmo continua ad attaccare ma prima Njambe e poi Emili trovano sulla loro strada Daniello che è autore di due parate letteralmente strepitose che permettono di mantenere la parità. In un primo tempo giocato magari non a ritmi altissimi ma bello per occasioni, create con le immagini nella ripresa e subito due chance per la Gianna da corner, prima la spizzata di Perna sulla quale è attento De Giglio, poi un colpo di testa di piazza che però finisce al lato. Ma i ragazzi di Chiappella sono partiti meglio e suggellano con gol. Due tocchi con Previtali che serve in area Fumagalli per il sedicesimo gol stagionale dell'attaccante. 2-1 e Gianna avanti nonostante le proteste vehementi di De Giglio per una presunta posizione di offside e forse il portiere abruzzese non aveva tutti i torti. Pineto di rabbia, gli ospiti protestano anche per il contatto su Njambe prima e su Allegretti poi arriva comunque il tiro di Filippo che esce non di molto. Pineto in pressione, la Gianna regge il colpo e si fa vedere con questo tiro di calmi che però finisce alato. Nel finale è forcing della formazione abruzzese che prova anche in velocità a impensierire la difesa della Gianna ma la mira non sempre è precisa oppure arrivano le chiusure puntuali dei difensori su tutti come in questo caso piazza. E poi le parate di Daniello, la Gianna vuole vincere sulla rovesciata finale di Maio, ancora una volta Daniello ci mette i guantoni. Grande festa della formazione di Chiappella che si concluderà con la premiazione per la vittoria del campionato. Il 28 sarà ancora Gianna Pineto per la Coppa.